Ciao a tutti amici di Medioclino! Ciao! Siamo tornati qua con Christian e oggi per voi degustiamo un bellissimo bianco, il famoso Clean dell'azienda Primozic, siamo in Friuli. Questo un blend è un nuovaggio di quattro vitini che sono Sauvignon, Chardonnay, Laribolla e il Friulano. A 14 gradi quindi è un vino di struttura, l'abbonamento di Medioclino è la Dolce Vita. Andiamolo a conoscere! Giallo giallo! Giallissimo! Giallo dorato Tassoni direi per chi la conosce! Limpido, un vino decisamente consistente! Il 14 gradi si vedono tutti! Beh è una poteosi di profumi e dalla frutta gialla matura, tipo un melone maturo, c'è anche delle note di lacca, di tostatura di legno, si, ci sono fiori gialli, proprio tipo lacaccia, fino anche a delle erbe come l'ortica direi! Esatto, quasi speziale! Andiamolo a degustare! Secco ma con sensazioni addirittura dolci, dolci, si, vero, vero! Intenso di struttura e proprio eleganza, un vino meraviglioso! Si sente anche qui la tostatura che è usata però molto bene, non è troppo invadente, è proprio ben equilibrata! Io lo proporrei a Cristian se siete d'accordo, un po' non freddissimo, 12-14 gradi per farlo crescere! Assolutamente! Assolutamente! E poi, qui direi ragazzi, un bel primo importante! Un primo importante, esageriamo, ecco, si, vai! Non so, una lasagna di pesce con... cosa potremmo abbinare? Un bel po' di pesce mella? Si, oppure una lasagna di pesce con della ricotta di capra! Vale, e via! Signori, amici miei di Miro, ciao! Cin! Ciao! Ciao!